Mi chiamo Gianni Placido, sono musicista, compositore e produttore specializzato in musica etnica contemporanea. Insegno e studio dal 1997 il digeridu, strumento affiato degli aborigini australiani. Assieme ad esso da molti anni coltivo la pratica della meditazione, dello yoga e delle arti marziali giapponesi a Bologna. A volte la poesia mi sorprende, venendomi a trovare quando meno me l'aspetto. Negli ultimi due anni ho lavorato per il progetto musicale Aborigine, facendo convogliare le mie passioni in un unico, denso lavoro. Un CD brossurato di 40 pagine a colori, 40 poesie haiku ed un CD musicale denominato La Via di Uscita. A questa opera hanno partecipato 11 musicisti, per un totale di 18 strumenti musicali etnici e contemporanei, fotografi e videomakers, rimanendo fedeli alla filosofia che il tutto e più della somma delle singole parti. Mi rivolgo a te, per portare a compimento la via di uscita, unire le forze per stampare i CD e il libro fotografico, per coprire parte delle spese di registrazione, missaggio e mastering sostenuto. Sul sito web Produzioni dal Basso troverai il progetto di crowdfunding della Via di Uscita. Puoi scegliere tra 12 ricompense e soprattutto ordinare il CD book. Grazie per il tuo sostegno. Grazie per la visione!